oh sti giorni veramente non ce la può fare ecco adesso ce l'ha fatta uh non ho attaccato il microfono ma sono proprio un boomer ai 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 cantelli stai perdendo colpi che poi ci sia differenza di voce yes vediamo se il microfono giusto quello dal quale state sentendo audio yes microfono predefinito bomba quindi hello boomers ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa ormai classica live unboxing del venerdì dove apre un po' delle robe che mi sono arrivate ultimamente e dai dai la live libera anche perché visto che coi podcast c'è sempre un argomento abbastanza preciso questo si può parlare anche un po' più di casteggio e robe varie eccetera infatti dai rispondo sempre a tutte le domande in tutte le live però diciamo che se avete domande libere questo è il contesto giusto tipo ieri stavo facendo live su jailbreaker oh ma hai comprato poi il preorder delle porno riviste si ho fatto il preorder delle porno riviste adesso condivido la live su facebook e poi video unboxo un po' di roba live now live now allora ragazzi come avrete visto dal titolo sarà una live piuttosto rosa e per rosa intendo ci sarà della roba dei the roser e quindi sono molto molto carico per la questione si è uscito il vinilo di di nuovo in marcia allora sono andato a fare il preorder preorder l'ordine successo dell'indbox perché ce l'ho comprato un botto di roba tutta di the roser qualcosa avevo già già però ho detto la ricompro ti hanno dei 10 5 euro e ho detto vaffanculo me li riprendo e capitolo black friday ui ciao ettore come va ves tutto a posto allora capitolo black friday black friday dischi adesso non stiamo qua si avete ragione voi black friday è merda bla 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 però c'è gente come molti di noi che compra dischi tutto l'anno quindi se oggi se si dovesse essere qualche promozione sui dischi da qualche parte fatemelo sapere che sono interessato se oggi si riusciamo a risparmiare qualcosina sarebbe una figata quindi voi avete trovato qualche promozione dischi sul black friday fatemi sapere in caso lo condividiamo tutti insieme io ci ho dato un occhio adesso se ci doveva essere qualche promo interessante ho visto che tipo imperico fa un 20 per cento oggi sulle magliette nere quindi anche sto cazzo tra l'altro c'è anche un ordine di imperico da aprire oggi che aveva un buono e boh fotte sega poi per esempio i pennywise i legwagon bot di band americane stanno facendo la promo del 20 25 30 a chi 40 per cento come gli unwritten low ma sugli store americani e quindi fa un culo perchè e cioè fa un culo no cioè fa bene a farlo però non faccio ordine sugli store americani perchè tanto se non mi becco sempre la dogana ed è un bagno di sangue come mi è successo l'ultima volta con i red city radio e quindi anche lì lascio abbastanza perdere però se volete prendere della roba dei legwagon pennywise un bot di band lo stanno facendo andate sul loro store e ci sono le promozioni nel legwagon la promo non vale con i preorder di os naturalmente bene bene a me è arrivato oggi il vinile di mondo perfetto dei rossi a breve poi acquisto anche gli altri vinili usciti dai rossi su indie box al 10% oggi giusto infatti ho fatto l'ordine su indie box tipo una settimana fa anche più forse mi è arrivato poi dai adesso gli ordini li apro quando mi arrivano fondamentalmente e cioè non li apro quando mi arrivano li apro quando faccio gli unboxing e ho visto che c'era un 10% visto che ho speso quasi una cinquantina d'euro mi risparmiavo 5 euro uh bella day vp come va siamo io e zama nelle strade di viserba ma che bomba e se siete dalle strade di viserba e volete fare la reaction con me ragazzi fatemi sapere che vi do il link per entrare in live e facciamo un po' di castaggio insieme quindi se volete entrare in live fatemi sapere che vi do il link adesso è molto gasato vogliamo il black friday di karaoke con sega bomba karaoke con sega è un joke tra me e david che c'è questo karaoke in giappone dove mentre fai karaoke ti segano dai va bene allora regas faccio così regas vi do il link ve lo mando david sul tuo messenger di facebook ok copy to blackboard così ce lo vedi lì su facebook dopo lì metti dai accetti non è facile non è difficile so che sei boomer ma dovrebbe essere una roba abbastanza semplice ecco david ti ho mandato il link su facebook allora intanto cominciamo ad aprire dovrebbe essere questo quello dei dei rosa boh no questo è tedesco questo è dei dei rosa allora coltellaccio e andiamo ad aprire cercando di non far danni come al solito dov'è il lato debole dice lato debole vinile boh 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 ah no non ha sortito alcuni effetti sta coltellata ecco ho scoperto dove cominciare ad accoltellare ok bene quindi regas dai se avete delle balte per black friday fate sapere e le condividetele con la community io le mie poche dritte le ho date allora wow eccolo qua il vinile di di nuovo in marcia figata ragazzi tra l'altro è la prima volta che questo disco esce su vinile allora che anno è riuscito di nuovo in marcia figa canto sono al lavoro ti sto seguendo bene vedi lo smart working serve a questo allora the rosa di nuovo in marcia allora però ho visto che gli ospiti è un album del 2004 sì sì infatti mi ricordo bene allora rinnovato l'abbonamento lei grazie mille michael grazie mille no no sono in ufficio quindi non stai facendo smart working ma sei in collegamento figata 2004 bomba ci abbiamo visto ma adesso un saluto agli ospiti david e zama ciao regas from the street quella voi avete culo che siete nel comune di rimini e quindi il comune gigante vero? ah di brutto io samauro mare parco 2 posso arrivare a samauro pascoli poi vabbè in giro col cane arriva bellaria però cioè da rimini vuol dire che da torre pedrera può arrivare praticamente a riccione vero? esatto sì penso di sì noi in realtà siamo arrivati fino a visar bella piedi e niente zama ha fatto un po' di foto come sto solito allora stanno chiedendo dalla chat se state testando il pedale di Tucciamore all'aperto sì ma è Cimeon è Cimeon sì è lui sì ma allora ancora non l'ho suonato perché sono un caprone però ho comprato il pack delle cassette non so se l'avete visto no è uscito una serie 5 cassette con cofanetto con box che arriverà in gennaio detto Scemore dai speriamo si possa così lo unboxiamo insieme va bene zama? di brutto di brutto bomba poi cosa vuoi tutto a posto Regas? sì sì ma è una puntata sul Black Friday che non ho capito no no allora un unboxing normale e che come è arrivato è uscito il nuovo vinile di The Rose aveva un ordine da Impericon ma ho detto avete qualche dritta per il Black Friday che voglio comprare dischi e non ho visto nessuna dritta in particolare se qualcuno ce l'ha le faccia sapere allora guarda io se volete posso suggerire però c'è poco mi sono 10% sul sito tedesco HHV ok che comunque ha assoluto questa roba anche punkard cordi anche se ha tutto ha le spedizioni veramente basse tutto a 10 euro mi sembra le ordini anche 50 liste allora sì sì dicevo già prima di indie box al 10% gli store americani delle varie band stanno facendo un 20-40 HHVW di no W normale ok punto D mi pare di sì ma anche un punto com lo trovi ok ve lo metto in chat ragazzi dopo ci vado a guardare anch'io no perché però ci sono investi dico sempre tanto prendiamo i dischi tutti i giorni del cazzo di anno almeno oggi se sai qualcosa da risparmiare ci risparmiamo qualcosa sì però io mi sa che ho già fatto troppo acquisto ultimamente quindi mi sa che oggi sto buono adesso vedo ancora non ho preso niente cioè se trovo qualcuno che vende i dischi bene se no niente cosa c'è dietro la mia emoticons non lo so vedo che c'è tipo credo che vuol dire la telecamera che è quello che stream vi salutiamo perché stiamo morendo di freddo è stato bello aspetta una roba al volo ieri mi ha invitato Raffo per parlare di Maradona ma non sapevo cosa dire il bello che prima o poi ti voglio in live con Raffo il bello che ieri ho fatto la storia Instagram dicendo va di live alle 20 e Raffo mi fa alle 20 vieni ospite a parlare di Maradona da me vabbè a sto punto lo potevi invitare ospite al tuo live eh ma bello sono ospite oh ragazzi dai ci sentiamo presto statemi bene ciao bella ciao ragazzi voilà I'm a bag I'm back big mac bomba dai mi ha fatto piacere i miei amici che sono di Viserba e loro sono abbastanza fortunati in quanto Viserba è il comune di Rimini e quindi vuol dire che puoi andare è un'area grandissima dove poter andare mentre io che abito in un comune piccolo non posso andare da nessuna cazzo eh di di parte pure moderatore di messaggi no no io non ho nessun moderatore qua ah sono io che ecco consentire eh ah ah cos'è che avevi scritto qua non so perché Michael ma certe robe le blocca eh me le blocca quindi non so perché eh certi messaggi può darsi che li può bloccare io sono Portoricos allora comunque unboxing stavo facendo vedere TheRother di nuovo in marcia dove nella Saida c'è eh tutto il disco di nuovo in marcia eh tra l'altro Regas è al 10 al 10% quindi vuol dire che lo paghi cosa 15 euro lo paghi 14 qualcosa ed è una figata eh eh disco tra l'altro fighissimo questo un disco tra l'altro se mi raccontava la storia eh dove la formazione era in quattro infatti c'era anche Spassa nel side A c'è il disco incompleto c'è il disco dall'inizio alla fine poi nella side B ci sono delle demo e infatti me ne parlava appunto Daniele Venti che ehm ci sentivamo prima e e mi ha detto che la tubì è molto molto figo e tra l'altro molte di queste cose è la prima volta che sono rilasciate su vinile praticamente tutto appena a parte i pezzi di 1.44 1.44 me lo sono ristampato allora Regas bellissimo Epic Merch Store c'è il 10% figata ragazzi quindi c'è e lì della roba la vorrei prendere perché hanno sia i palli che i rendi quindi lì molto probabile che vada a comprare qualcosa Epic Merch Store ragazzi aspetta lo lascio un altro po' così andate a vedere e allora vinile nero ragazzi ormai è una rarità vero un vinile nero di sti tempi e dopo c'è l'inserto voilà vado a vedere molto molto fico ragazzi oggi è il giorno giusto per comprare sto disco di Ederosa di nuovo in marcia bellissimo tra l'altro dai il primo disco dopo l'infortunio di Sebi una bomba poi già che ce l'ho ho preso un altro po' di roba da Indie Box allora una maglia di Ederosa che poi le maglie di Ederosa le ho quasi tutte e ogni volta che suonavano tra Mauri e la De che erano al merch me ne regalavano sempre una perché dicono ah sei un fan storico di qua di là e si fa sempre tanta pubblicità e quindi dai bomba me ne è andato veramente un casino questa mi mancava De Roser Pancro credo che mi mancasse e quindi l'ho presa veniva 10 euro fighissima come tutte le maglie di De Roser molto molto classica o meglio ce l'ho col diavoletto ma blu o col diavoletto piccolo e quindi questa qua penso di non averla e presa poi un po' di cd allora alla nostra età che io già ce l'avevo però avevo la versione della The Rotten Records The Rotten era urca su chi era uscito no della Cobb della Cobb questa invece è la versione della Indie Box cioè è identico a quello che già avevo però è uscito sotto un'altra etichetta e quindi ok ho detto me lo compro leggermente diverso rispetto a quello che ho semplicemente cambia la scritta della casa discografica dietro però i drogati del cazzo con le esteristi fanno a caso anche queste cose tipo me Cobb usciva sì Cobb e allora la copia di Bar io nel tempo l'avevo persa costava 5 euro sul sito di Indie Box me la sono comprata ricomprata perché mi mancava e dai la copia di Bar ci vuole cazzo figata che triste quando chiudo Bar puttana no surf wow adesso finisco e mi metto su Bar The The Roser faccio serata alla grande stasera anche perché stasera non credo che guarderò propaganda live anche perché non sono sicuro di riuscire a reggere alle banalità che dirà Marco da Milano e alla retorica che userà su Maradona quindi può darsi che stasera pacco propaganda live poi lo dico che lo pacco poi alla fine me lo guardo e ci rimarrò male per quello che dirà Marco da Milano perché non mi piace tanto quel personaggio troppa retorica e troppe banalità che butta fuori non t'avevo visto Morgan ciao bello allora io sto cercando il vinile di Bar ma mi sa l'unica è comprarlo su Discogs sì perché lo store ufficiale dei The Roser adesso è in Dbox e non c'è e poi ragazzi invece sapete che 1.44 non l'avevo mai avuto penso di no e quindi me lo son ricomprato bello no me lo son comprato questo non l'avevo mai avuto ce l'avevo masterizzato tra l'altro masterizzata con la copertina in bianco e nero era totalmente uguale questo sì The Rotten Mad Butcher Blue Majesty e un'altra etichetta da Venus Distribuzione minchia che che mega unboxing The Roser 3 cd ta 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 1.44 alla nostra età la versione Indie Box bar che figata bar dai adesso dopo questo video lo mando a Sebi e diciamogli tutti fate le magliette con la copertina di bar siete tutti d'accordo? ci starebbe la maglietta con la copertina di bar fate la movida in chat stupendo 1.44 minchia da Milano su Maradona e peggio di Longhi su Maradona sì ragazzi a me propaganda live piace ma da Milano è veramente la persona più banale che sia nata sul suolo italico quella retorica spiccia dobbiamo riflettere oh madonna tra l'altro quel programma sta rovinando anche Zero Calcare le poche volte che c'è vabbè assolutamente sì copertina bellissima maglia rossa con la copertina di bar tutta la vita Sebi guarda cosa dicono tutti i ragazzi della chat tra l'altro dopo che manderò questo video a Sebi proverò a invitarlo al Saturday Night Punk Rock Live se vuole venire ospite cosa ne dite sarebbe figo avere Sebi al Saturday Night Punk Rock Live fatemi sapere se vi può piacere come idea detto questo domani ci sarà Simo Perini che ho fatto la lista delle band in cui ha suonato qui su Facebook 10Football Bloody Beat Roots Get Dead Gattermouth This Is A Stand Off Action Man Standing Steel tra l'altro gli Standing Steel uscivano per Indie Box io faccio i rodi per gli stand ho fatto i rodi alcune volte per gli Standing Steel quindi ragazzi domani sarà una puntatona 21 quindi sì Simo Perini Girless che avrà due pezzi probabilmente un inedito no un inedito un suo pezzo una cover e ieri a sala quindi primi ospiti internazionali da Manchester infatti l'ultima parte sarà in inglese e tra il mio inglese l'inglese di Jamie da Manchester nessuno capirà un cazzo di niente l'autore Stefano Zattera è un grande ha fatto sia bar che alla nostra età copertine fighissime sì ha fatto sia bar che alla nostra età e ha fatto anche il 7 pollici che mi piace tantissimo giorni duri che è lo split con gli impossibili adesso non lo vado a prendere però ho fatto una puntata dedicata se metti canta hc giorni duri su su youtube la trovi e la copertina che tra l'altro c'è lo stesso personaggio di è sempre lui lo stesso che c'è sulla copertina di giorni duri è quello della nostra età e quella mi piace tantissimo stupendo veramente sì te lo stavo scrivere di chiedere a Sebi di venire come ospite sì sì dai ogni tanto ci si sente con Sebi glielo propongo molto molto volentieri credo accetterà dai se non ha roba da fare il sabato sera io sì bello vedi tutti d'accordo o non so se sei d'accordo per la maglia di bar o per avere Sebi ospite poi bella Kent bella Danny Defend ha fatto anche un passaggio a nord-est ma in stile molto diverso se riesci a usare Streamyard sì che riesci a usare Streamyard dai non è che sono tutti boomer come noi ah sì te non era finito a capire l'inglese degli Aerial Salad no ragazzi l'inglese di Manchester non lo capisce nessuno sarà dura domani infatti però fighissimo ah poi Indiebox ha messo anche una compilation perché ti dice scegli una compilation e te la regaliamo ho scelto questa anche perché mi sa che le ho tutte le compilation di Indiebox qui chi è che ci sono Unseen Wild and Scream Disastend ho fatto la Zolosing Grip Daphne Testumana i Friday Today tanta roba figa dai io non sono un grandissimo fan delle compilation lo sapete cioè delle compilation fatte dopo il 2002 però vi starà lì in mezzo a fare mucchia Anni anni di Oasis aiutano sì però loro sono di eh sì loro sono di Manchester è vero sì sì infatti era figa la frase di quel concerto famoso che fece la Buenos Aires c'è Noel Galler che fa sorry for my English I'm from Manchester detto col suo accento qual è la tua vecchia band che c'era su questa compilation dai dai spara fa sapere che così si dà un'occhiata Sad Seven Days urca dov'è che è Sad Seven Days vorrei vedere se vi trovo ecco qua la canzone Stain Remover bomba dopo vi ascolto è così e quindi questa era la prima parte dell'unboxing con Maglia Dede Rosa soprattutto vinile di nuovo in marcia e t-shirt figherrima babà poi seconda parte pacco dalla Germania e allora aveva un buono da utilizzare su Impericon e ecco qua che apro quello che ho preso tra l'altro l'ho preso un po' abbastanza è di corsa sto ordine l'ho fatto e non so bene che cazzo ho preso quindi cioè una roba sono sicuro il vinile che ho preso il resto non mi ricordo quindi il vinile ragazzi probabilmente una delle mie copertine preferite di tutti i tempi e sapete che dico spesso e questa poi la terrò esposta fuori ed è questa ragazzi Society's Victim e di Discharge volume 2 non la so ragazzi le copertine col chiodo già mi fanno impazzire questa è una delle mie copertine preferite di sempre e mi mancava il vinile peraltro credo sia proprio un doppio LP andiamo a vedere oh no no stanno uscendo allora fa vedere sì sì no ah ma che casino allora sì qua ci sono i due vinili neri non so perché li hanno messi così alla cazzo di cane e dentro c'è appunto la grafica che appunto riprende tutte le uscite che sono raccolte in Society's Victim voilà ecco qua adesso farò casino per mettere qual è il lato A il lato C ok quindi questo questo va qua ok non faccio un casino voi siete fan dei discerci ragazzi madonna che bomba ah no questo ci voleva ragazzi poi edizione veramente molto molto figa uscito per Let Them Eat Vinyl che credo che sì sì sono The Locks for Shire UK bellissimo ragazzi questo adesso andrà esposto e ci rimarrà credo per più o meno sempre e si sta componendo perché ce ne sono molti che ho detto questo adesso non lo cavo più quindi inizia a essere dura entrare e poi ho preso anche un paio di magliette già che c'ero dovevo sfruttare sto buono allora adesso prima ho una maglia bianca con stampa patacca viola della copertina di Here Nothing allora mai inserire i vinili così canto ovvero con il taglio del folder nella stessa direzione dell'apertura se ti dice male ti cadono hai ragione hai ragione l'ho fatto un po' in fretta che sono in live comunque dopo sistemo tutto hai ragione scusa per la gaff allora visto che avevo aspetta che butto la roba nel bidone se no visto che ero gasato per saffere in sti giorni c'era sta maglia di saffere che mi mancava e l'ho presa alla stragrande molto molto semplice ho la maglia quella del concerto così quella proprio con tutta la copertina questa invece c'è solo il dettaglio poi ho la long sleeve così ho quasi tutto il merch riferito a saffere maglissima questa l'unica roba mi sarebbe piaciuto forse cosa ne pensate con il bordino nero su bad religion sarebbe stata ancora più figa fatemi sapere però bella maglia aspetta saffere ce lo dovrebbe aver qua a tiro ahah dov'è ah perchè è vero in saffere non c'era il bordino nero quindi sono stati fedeli al 100% ah ok ok quindi ci sta babà e questa non mi ricordavo di averla presa però è sempre figa una maglia di madball tamarra come nient'altro al mondo sfida che doveva arrivare alla fine del buono ed eccomi qua dai ci sta sempre la maglia di madball ragazzi sapete che bota non l'avevo vista la scritta New Yorker Core sulla coppa così se uno ti dà ti dà un coppino lo fa sulla scritta New Yorker Core dai anche questa ci sta finita la roba da unboxare o c'è altro no c'è altro minchia che buono avevo la long sleeve dei terror babababam cazzo questa non mi ricordavo neanche questa di averla presa allora davanti la scritta terror 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 per 4 e il dietro è molto molto fine spirit of sacrifice voilà poi dopo naturalmente sulle maniche qualche aquila mettere mentre sull'altra mano sull'altra passi uguale aquile su entrambe le maniche madonna che tamarrata non ho trovato niente di meno tamarro da mettermi però questo mi piace un botto fanculo adesso si giorni me la metto alla grande ma un botto di roba l'ho preso fico fico è così ragazzi è così è tutto finito sto unboxing noi ci vediamo domani sera alle 21 sono carico per la puntata di domani ditele ai vostri amici se avete qualcosa da guardare in tv stasera di figo fatemi sapere che così mi evito lo spiegone da Milano ciao ragazzi un abbraccio e ci vediamo domani sera alle 21 bella and broadcast yes